Dagli ospedali psichiatrici e giudiziari alle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Nuovi scenari per la gestione dei pazienti che hanno commesso un reato. In Lombardia ogni anno si parla di 100-200 persone a fronte di 140.000 pazienti seguiti dai servizi psichiatrici a livello regionale. In linea con la media lombarda i numeri comaschi. Pazienti psichiatrici non autori di reato, parliamo di oltre 5.000 persone. E autori di reato? Sono una percentuale bassissima, che sono rimasti nella REMS, che è l'ospedale psichiatrico, non c'è più, 4 persone. Con il superamento degli ospedali psichiatrici e giudiziari è cambiato anche il modello di gestione. Se prima era automatico l'invio negli OPG, oggi si parla di REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Quella lombarda di Castiglione dell'Estiviere ospita al momento circa 130 pazienti. I nuovi scenari sono stati al centro dell'attenzione questa mattina a Villa Gallia, a Como, durante il convegno organizzato in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Tra gli aspetti sottolineati, la tendenza odierna a privilegiare la cura e il reinserimento del paziente, per esempio attraverso la collaborazione di enti diversi, come accade a Como, anche per contrastare il rischio recidiva. Se il paziente può essere ricoverato in una struttura di cura o seguire un percorso di cura territoriale, il giudice lo invia a questo percorso. Se invece le misure di sicurezza sono indispensabili e devono assumere un carattere detentivo, allora viene inviato in una REMS. La situazione in provincia di Como, che ormai è collaudato dal 2010, un sistema di collaborazione interistituzionale. Intercettare il bisogno per tempo, costruire un percorso individualizzato, sanitario, che si affianchi a quello giudiziario, significa anche per il futuro prevenire il rischio che queste persone di nuovo cadano nella commissione di altri reati.